Il pubblico deve aspettare, sarà giudice probabilmente di questa contesa fra Renato e zero, benché loro mi riconoscano entrambi i ruoli e le responsabilità, però noi sappiamo perfettamente che uno fa un suo percorso e l'altro ne fa un altro e insieme raggiungono poi un risultato. Io sono sempre molto sereno prima di tutto, il camerino è la mia sacristia perché io lì mi concentro, mi trucco, mi preparo. Il palco per me è tutto sommato la verifica costante che non sono cambiato, che non ho gradito, che mi piace sempre incontrare il mio pubblico. Sono tante le cose che mi emozionano, le facce dei miei musicisti che sono sempre loro, che da tanti anni mi seguono e mi emozionano. sono le quinte soprattutto dove si prepara, dove ogni tanto una lacrima, ogni tanto un brivido, ogni tanto una paura e poi ovviamente anche, soprattutto poi il pubblico. Il pubblico che è sempre la nota vincente, sempre la ragione primaria, come ho sempre detto, tanto della mia vita.